Sono qua per questo, per constatare nuovamente e direttamente il lavoro straordinario che fanno i punti di riferimento in questi luoghi, dal Bambucca, al Gridas e altri luoghi, i centri sociali, luoghi di aggregazione musicale, culturale. Il Comune deve stare vicino in tutti i modi a chi opera in queste realtà difficili, cercare di stare a fianco economicamente ma anche da un punto di vista politico, istituzionale, di coinvolgimento per accorciare le distanze in questa città per renderele vive. Su Scampieri sono tanti progetti che vanno dall'università alla sicurezza, al wifi, ai luoghi di aggregazione. Faremo molte cose importanti coinvolgendo la città, perché la stragrande maggioranza dei cittadini di questi quartieri è fatta di gente per bene, gente che vuole vivere bene, vuole vivere sicura, vuole vivere nel riconoscimento dei diritti, cercando di creare le condizioni per il lavoro, il lavoro per i giovani e anche per i meno giovani.